Ma tu? Vedete che cosa hai detto alluminato? Quale scelte se ne voglio? Se ne voglio! Se ne voglio! Quando moro possiamo mettere la russarina La russarina! Ma ti è? Ti è? Ma 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 non potrai buttarmi il tuo cuore? Ma non potrai putarmi il tuo cuore... ... per 14 ore! Ma non potrai lanci! Ma non potrai lanciare! Calma, calma... C'è un ragione e peggioato! Ma non puoi mettere la r subjection, ma non sono mai del 2015! Non puoi mettere il suo tempo! E non puoi fare il tuo cuore! Uh... Ma non puoi farli! Ma non puoi fare! Ecco tu! E' un giro fai! E' un giro fai! E' un giro fai! I teore fai! I teore fai! I teore fai! I teore fai! E' un giro fai! Grazie a tutti.